salve a tutti e benvenuti sul canale creare con sud est mi presento mi chiamo Alina benvenuti per chi è la prima volta e bentornati per chi mi viene sempre a trovarci oggi non sarà un video tutorial ma sarà un video soltanto dei progetti che vorrei realizzare il mese di settembre questo non vuol dire che questi progetti saranno anche come uscita dei tutorial per il mese di settembre perché naturalmente ci vuole molto tempo per realizzarli ma saranno soltanto i lavori i quali vorrei realizzare questo mese invece poi i tutorial saranno in uscita prossimamente quindi da ottobre oppure novembre dipende sempre da quando li vada a terminare e quindi riuscire poi a creare il tutorial per voi quindi i progetti non saranno tantissimi sono soltanto quattro progetti in tutto due sono per i bimbi perché lo sapete il canale proprio quello la maggior parte dei tutorial sono realizzati appunto per i bambini però in questo mese vorrei prepararmi per inverno anche io e per inverno per ottuno per cui perché mi voglio tanto bene vorrei realizzare un paio di maglioncini per me e partiamo dai progetti più piccolini per cui andiamo a vedere un attimino i bambini vorrei dovrei realizzare un scaldacuore e anche un abitino scambiciatina da bimba quindi andrò a realizzarli con questo splendido rosso il filato che ormai conoscete tutti quanti super wool della mondial qui abbiamo 100 per cento merino extra fine quindi è ideale per i bimbi perché non punge un filato meraviglioso non fa il pelo non fa il pallino per cui è ideale per i bambini andrò a realizzare una taglia di 12 mesi all'interno del tutorial poi troverete le taglie di 9 mesi e di 24 mesi quindi qualche taglia un pochino più grande faremo 9 mesi 12 mesi 18 e 24 qualche taglia un po' più grande perché spesso appunto vado a realizzare i tutorial proprio per i piccoli al di sotto di 12 mesi questa volta invece avremo una taglia un po' più grande fino a due anni poi per le altre taglie naturalmente andrete a realizzare il campione e il calcolo in piena autonomia suppongo che mi serviranno un quattro gomitoli per realizzare abitino e circa tre gomitoli per realizzare lo scaldacuore perché non sarà lungo sarà fino alla vita neanche un po' più corto proprio il classico scaldacuore da abbinare sopra all'abitino il classico scamiciatino tutto maglia rasata diritta soltanto dei bordi un po' più lavorati come il punto elastico o magari il punto grana di riso qualcosa del genere per cui sarà semplicissimo anche per tutti i principianti quindi un lavoro facile e veloce e dovrò realizzare per forza il mese di settembre così per ottobre andiamo a pubblicare i tutorial e riuscirete a realizzarli prima che arriva l'inverno e questi sono i primi due progetti per quanto riguarda i progetti per me che sono comunque interessanti credo che in tanti mi seguite anche sul gruppo facebook creare con su test dove appunto abbiamo scelto il maglione su su proposti vi avevo proposto otto modelli in tutto abbiamo fatto il sondaggio la votazione e per cui abbiamo un vincitore sui otto e quindi il modello era numero otto qui vi vado a legare la foto di questo modello come potete vedere il modello è piuttosto classico è molto moderno perché ha il taglio diverso dal dal solito sotto da sotto allo scalfo ha un apertura non ha la cucitura sono accavalati le due parti sono sovrapposti e quindi ha un taglio lunghissimo a partire da sotto al braccio fino a giù a tutto il maglioncino come si vede dalla foto realizzato tutto appunto costa ma naturalmente bisogna calcolare e ricalcolare l'unica particolarità che magari non potrebbe essere da subito chiara e la manica come fa a creare questo disegno il punto a coste tutto questo noi andremo a vedere all'interno del tutorial io ho già realizzato qualche campione per realizzare questo maglioncino e i campioni sono questi ve li vado a mostrare abbiamo un campione c'è troppa luce ecco un campione sempre punto a coste qui ho i ferri del numero tre e mezzo per questo campione ho utilizzato il filato top wool 150 della mondial qui sono 100 per cento lana merino merino fine e un filato super wash per cui lavabile in lavatrice e questo è il primo campione naturalmente il maglione non lo farò rosa è soltanto un gomitolo che avevo già aperto e per cui ho fatto il campione con questo filato il campione devo dire la verità mi piace è già lavato come potete vedere già è bello fluido bello delicato è molto carino ma secondo me è troppo caldo per quando vorrei indossare io perché comunque essendo il maglioncino non molto grosso vorrei indossarlo magari nelle stagioni non molto fredde per cui non proprio inverno ma una stagione come primavera l'autunno quando il freddo o appena arriva o appena sta andando via perché i maglioni invernali magari qualcuno ne ha già e farò ancora un altro maglione che sarà bello invernale e quindi vorrei un qualcosa di un po più sottile per cui questo campione ho scartato ho realizzato il prossimo campione che era sempre con un gomitolo che avevo già un gomitolo aperto questo il secondo campione molto bello anche questo qui si posa molto bene nel punto coste i ferri del numero tre e mezzo e qui ho utilizzato il filato merino coat di lana gatto qui abbiamo 53 per cento di lana merino extra fine e 47 per cento di cotone per cui è un filato ottimo per le stagioni come primavera e l'autunno ideale proprio non fa assolutamente il pelo morbidissimo delicatissimo guardatela il lavoro com'è proprio bello pulito pulito non ha pelucchi non ha peluri assolutamente niente morbidissimo al contatto con la pelle l'unica sua pecca che da vale e da lavare esclusivamente a mano perché il filato non sopporta la lavatrice io sono abituata perché qualsiasi capo realizzato a mano li lavo comunque a mano però si posa veramente benissimo ottimo come filato ma forse un po grossolano proprio come il punto leggermente grossolano che credo che poi per realizzare la taglia mia non avrei le coste a sufficienza come stanno sul maglioncino forse anche sì ma insomma ancora non lo so ancora sto decidendo se realizzare proprio con questo filato qui o magari con il prossimo per chi mi segue su facebook avete visto già abbiamo fatto la diretta per chi non mi segue giù nell'info box dove sotto al video c'è scritto altro cliccate su si apre l'info box e all'interno dell'info box troverete tutti i link troverete il link del nostro gruppo facebook dove andiamo appunto a decidere e vedere un po sia i campioni che i lavori che quant'altro e dove troverete anche le nostre dirette che sono fatte ogni mercoledì pomeriggio e dove vi andrò a far vedere i andamenti dei lavori che sto realizzando quindi per momento ho deciso di fare un po così andrò a far vedere su youtube i progetti che vorrei realizzare invece l'andamento dei progetti li farò vedere su facebook durante le nostre dirette altrimenti su youtube non troverò il tempo proprio materiale per creare il video e condividerli quindi al momento andrà così e poi piano piano vedremo se magari ritornerò a fare i video settimanali qui su youtube fatemelo sapere nei commenti se siete d'accordo se vi piacciono i video del genere se li volete vedere o se magari dobbiamo lasciare soltanto il video tutorial qui sul canale youtube quindi come ho detto abbiamo già discusso riguardo a questi campioni all'interno di una delle dirette giù troverete il link inoltre troverete il link della nostra merceria dove troverete tutti i nostri filati che potete acquistare anche online le spedizioni sono non solo in tutta italia ma anche in tutta unione europea per cui cliccate sulla scritta altro e controllate tutti i link che saranno allegati giù in basso per acquisto il filato e per qualsiasi altra informazione ho realizzato il terzo campione questo qui realizzato con il filato un po più sottile infatti si vede che il punto cost è più ravvicinato uno vicino all'altro i ferri del numero 3 si posa bene anche questo qui ed è più morbido più fluido e più leggero proprio di peso in sé per sé qui ho utilizzato il filato VIP di lana gatto e qui abbiamo un 80% di lana merino extra fine e 20% di cashmere per cui anche se sarà bello sottile il maglioncino sarà leggerissimo di peso però è molto caldo perché comunque contiene cashmere ed è delicatissimo e credo che mi fermerò su questo campione qui perché mi piace davvero tanto mi piace proprio la sottilezza, la morbidezza e la leggerezza del campione stesso perché qui abbiamo un peso di sì e no un 5-10 grammi mentre qui il campione è già molto più pesante ed è più piccolino per cui il maglione realizzato con la merino cotte per me ci vorrebbero come minimo un 10-11 gomitoli per una taglia 42 invece del filato VIP credo che sarebbero sufficienti 8 gomitoli quindi di peso stesso il maglione peserebbe intorno ai 400 grammi anziché circa 550 per cui sarebbe più leggero addosso da indossarlo un po' più spesso questo filato sempre da lavare a mano ho realizzato con questo filato altri capi sia per me che per le mie figlie il filato meraviglioso con i giorni a passare incomincia a lasciare quella leggerissima delicatissima peluria del Kashmir proprio la classica e quindi diventa di una morbidezza unica straordinaria con ogni lavaggio diventa sempre più bello per cui io credo che mi fermerò proprio su questo campione qui l'unica incertezza che non riesco a decidere è il colore quindi qui vi faccio vedere tutti i colori che mi piacciono il filato VIP è questo qui che vedete qui in alto quindi a partire dalla prima mensola qui in alto eccoli questi da qui fino a giù quindi sono tantissimi i colori sono più di 60 colori di VIP il filato meraviglioso e i colori che piacciono a me personalmente sono questi io non saprei tra quale dovrei decidere quindi se mi aiutate mi farete un grande favore io ve li vado a mostrare un po' tutti quanti insieme vediamo come possiamo fare e gli diamo un numero a ciascun colore anzi forse uno dei blu li vado a eliminare togliamo questo celeste che è troppo chiaro che è troppo bebè andiamo a mettere un po' tutti quanti li andiamo a dare dei numeri e quindi aiutatemi a scegliere il colore che secondo voi potrebbe essere il più adatto a questo maglione eccoli qui sono i colori piuttosto caldi quasi tutti quanti e i colori alcuni proprio il colore cioccolato il verde smeraldo che è sempre molto molto bello quindi partiamo da 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 giù nei commenti aspetto il colore che piace di più a voi quindi dal numero 1 a partire in alto 2, 3, il verde 4, il celeste l'altro verde il 5 il marrone il 6 e quest'altro che forse direi un color mattone o qualcosa del genere e il numero 7 io non riesco proprio a decidere abbiamo già parlato anche con mio marito e quindi non saprei che colore scegliere mi piacciono un po' tutti quanti su punto costa credo che si poseranno un po' tutti i colori che è una meraviglia come abbinarli più o meno saprei come abbinarli qualsiasi di loro per cui io non riesco a decidere aiutatemi voi questi sono i colori che mi piacciono per questo tipo di maglione e adesso passiamo all'ultimo progetto che vorrei andare a realizzare sempre questo mese e sarà il maglione sempre per me ed è quest'altro modello questo è il modello che ha preso il secondo posto non è il vincitore ma in ogni caso in tantissimi lo avete votato che comunque abbiamo avuto più di 600 votazioni e quindi il primo posto era il maglione con le coste e il secondo posto appunto il modello numero 4 che è piaciuto tantissimi modello numero 4, numero 5 non mi ricordo che è piaciuto tantissimi di voi e io lo vorrei andare a realizzare comunque per me perché mi piace tantissimo perché vorrei andare a provare a lavorarci con questo filato che mi piace questo filato ho già realizzato un maglione l'anno scorso per mia figlia risulta morbidissimo proprio al tatto una nuvola e un calore che dà questo filato credo che non lo dà nessuno e qui abbiamo New Baby Alpaca di Lana Gatto nella composizione è 70% di Baby Alpaca e 30% di Lana Extra Fine per cui il filato morbido delicato leggermente peloso comunque Alpaca ha sempre un po' di pelo però il cionno mi dispiace perché è davvero morbido morbido delicato delicato alla pelle per cui vorrei realizzare questo maglione con questo filato sulla scelta del colore sono proprio decisissima questo sarà il colore che andrò a utilizzare io lo vedo benissimo mi piace questo colore chiaro anche se andiamo contro all'inverno appunto qualche maglioncino chiaro non guasta mai magari non sarà proprio un colore ghiaccio però riprende come se forse un po' la neve un po' l'inverno sapete quelle belle trecce grandi morbidi quel colore così delicato mi fa pensare proprio le feste natalizi mi fa pensare una armonia in casa o magari davanti al camino con una tazza di tè veramente per me è un colore ideale per realizzare quel maglione e andrò a lavorarci proprio da subito da subito da subito andrò già da oggi stesso a rincominciare a fare qualche calcolo il campione il calcolo e quindi avvio per questo maglione sarà uno dei miei primi progetti che voglio farci sicuramente questo maglione vorrei terminare entro il mese di settembre come anche la vestina con la magliettina rossa entro alla fine di settembre li vado a terminare per forza invece il maglione punto a costa con il VIP magari se non riesco a terminare per mese di settembre sarà il mese di ottobre perché il filato è piuttosto sottile di lavoro ce n'è tanto dietro a questo capo di calcoli soprattutto perché non è un capo facile ma in ogni caso cercheremo di creare il tutorial più dettagliato possibile in modo che riusciate a realizzarlo un po' tutti quanti quindi questi sono i miei progetti che volevo condividere con voi vi attendo giù nei commenti fatemi sapere il colore che preferite per il maglione fatemi sapere se vi piacciono i video del genere se magari dobbiamo ritornare al video settimanali o per questo ci vediamo nella nostra diretta che così possiamo anche interagire all'interno della diretta perché comunque voi riuscite a fare le domande e io le risposte vediamo un pochino come gestire al meglio il tutto dal mese di settembre ritorneremo ai tutorial un po' più spesso rispetto a tutta l'estate che l'abbiamo trascurato un po' vi ricordo come sempre che il link sia della merceria che del gruppo facebook che di altri i miei social che dove mi potete trovare saranno tutti quanti giù nell'info box con questo io concludo grazie mille per avermi seguito ci vediamo nel prossimo video grazie mille